L'Isis Majorana a Fascitelli di Sernia ha aperto le porte della sede centrale di Corso Risorgimento per far conoscere a tutti l'offerta formativa del liceo scientifico e del classico. Gli alunni delle scuole medie e i loro genitori hanno potuto visitare i laboratori, gli spazi utilizzati per le varie attività e naturalmente saperne di più anche sui percorsi curriculari ed extracurriculari previsti. Ma soprattutto sono stati messi al corrente delle novità proposte dai due storici istituti scolastici della città. Per quanto riguarda il liceo scientifico abbiamo riconfermato per quest'anno l'offerta formativa degli anni passati riguardante l'ordinamento, l'indirizzo di ordinamento, le scienze applicate e il liceo sportivo. La novità di quest'anno è rappresentata proprio dall'ordinamento con la previsione di due indirizzi alternativi, quello concernente l'asse dei linguaggi, il potenziamento dell'asse dei linguaggi e il potenziamento matematico fisico, il potenziamento scientifico. Per quanto riguarda il liceo classico abbiamo, diciamo, legato ad aspetti classici, quelli che i nostri alunni poi apprezzano maggiormente, degli elementi innovativi. Mi riferisco all'introduzione di unità orarie aggiuntive in greco e latino destinate non ad attività teoriche ma al laboratorio teatrale che i nostri alunni apprezzano tanto e al laboratorio di archeologia. A guidare le tante persone che hanno partecipato all'open day ci hanno pensato gli studenti già iscritti raccontando le loro esperienze. Questi, ad esempio, sono i punti di forza dello scientifico Majorana. Mi vale la pena venire qui perché qualsiasi area che sia umanistica, che sia scientifica, che sia artistica viene ampliata e portata ovviamente a livelli decisamente alti, anche a livello sportivo. E inoltre ovviamente in questa scuola c'è da dire come ovviamente nel classico, ovviamente in tutto l'Isis, a fare grande questa scuola, ad essere questa scuola un po' d'eccellenza. Non lo rendono i grandi piani nazionali ma siamo noi studenti ad esserne parte attiva e concreta. Questa invece l'esperienza di chi frequenta il classico Fascitelli. L'atmosfera che si crea è un po' quella di una famiglia, insomma. Ci conosciamo un po' tutti anche perché, insomma, sapete che siamo pochi ed è una situazione anche abbastanza spiacevole, però ha i suoi pro e i suoi contro, in quanto è possibile, diciamo, considerare ogni alunno come un singolo e non magari come un numero, come avviene in scuola con il quadruplo, il quintuplo degli iscritti. Quindi ogni alunno viene trattato come dovrebbe, diciamo, gli insegnanti sono sempre disponibili ad aiutare.